Raffaello Tonon con Ginevra Lambruschi, 19enne ex di Nicolò Bettarini, bello stare con lei, il G.F.ino e la giovane influencer, anche ex corteggiatrice a uomini e donne, sono stati pizzicati insieme a Sanremo. Nuova coppia, non mi innamoro facilmente, ha detto lui, però, l'accoppiata che non ti aspetti. Raffaello Tonon, il 38enne ex concorrente del Grande Fratello Vipe che ha conquistato il pubblico di Canale 5 soprattutto grazie alla genuina amicizia nata nella casa con Luca Onestini, sta frequentando Ginevra Lambruschi, 19enne influencer dal fisico che è nota al Grande Pubblico soprattutto per la passata relazione con Nicolò Bettarini. Poteva diventare nuora di Simona Ventura, e invece, diversi mesi dopo la fine della storia con Betta Junior, eccola insieme a Tonon, con cui è stata paparazzata a Sanremo da spy. I due appaiono in atteggiamenti decisamente intimi ed è lo stesso Raffaello a raccontare al settimanale la loro complicità. A Revedi parlerà di coppie a tutti gli effetti. Raffaello innamorato di Ginevra, Tonon ha spiegato di conoscere Ginevra prima da prima dell'incontro a Sanremo, ci siamo incontrati una sera a cena a Milano, con amici comuni, e ci siamo subito trovati. Infatti, avevamo in programma di rivederci dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip, ma poi gli impegni lo hanno impedito. Ci rifaremo. Raffaello resta insomma ambiguo, senza lasciar capire se davvero tra i due stia nascendo un amore Tonon in passato fidanzato con Rossana Feola. Nel passato di Tonon, l'unica ex fidanzata nota è Rossana Feola, al suo fianco per ben otto anni. Da tempo ufficialmente single, il GFino ha attirato spesso pettegolezzi su una presunta omotenuta segreta. Lui, di recente, si è limitato a parlare di morbosità non necessaria, nei confronti della sua vita privata, che non ha mai avuto interesse a divulgare. Forse anche per questo sul legame con Ginevra resta vago, pur lasciando intendere come la differenza d'età non sia un problema. Raffaello apprezza anche i numerosi tatuaggi sfoggiati dalla giovanissima web star, ribadendone la bellezza, non ci vedo nulla di male. Del resto è una donna che ha una grande personalità, è grintosa e, mi creda, è gradevole sotto tutti i punti di vista. I mori di Ginevra Lambruschi, anche a uomini e donne. Oltre alla storia, con Niccolò Bettarini, mi ha mollata senza un motivo, ha raccontato lei. Ginevra è nota anche per una brevissima apparizione a uomini e donne, dove ha corteggiato Marco Cartasegna. Si mormora anche di flirt con Gianmarco Valenza e con Stash Fior di Spino dei Colors. C'è anche quest'ultima Sanremo, ma in queste foto lei sembra avere occhi solo per Tonon. Che non si lascia impensierire dalle voci sul passato della ragazza.